Il re imperatore è giunto a Pavia per inaugurarvi la mostra delle opere di Tranquillo Cremona e dell'arte lombarda del suo tempo, ordinata nel primo centenario della nascita dell'artista. La cerimonia svoltasi nel cartello è stata animata da pittoreschi gruppi in costume di sconteo. Successivamente il sovrano si è recato al gravellone, nello storico luogo dove nel marzo 1848 Re Carlo Alberto, barcando il Ticino al confine tra il Tiemonte e la Lombardia oppressa dalla dominazione austriaca innalzava per la prima volta il tricolore, freggiato dello scudo Sabaudo. A perenne ricordo dell'avvenimento è stato inaugurato un filo portabandiera eretto presso una lupa capitolina, dono simbolico del governatore di Roma. Grazie a tutti! Grazie a tutti